Passa sui passi Carrail, Presidente della Repubblica accoglie il ricorso presentato da CNA che ora studia i dettagli per poter chiedere i rimborsi. Con l'emissione del bando che porta medici e infermieri del 118 a far capo a Novara si sta completando la riorganizzazione del 118, sono perplessi i sindacati. 20.000 euro il contributo che il Comune di Viella ha definito per consentire ai volontari dell'AIB di compiere la manutenzione al Parco della Burcina. Non solo aiuto alle famiglie ma anche a chi detiene animali da compagnia attraverso la boutique solidale di Alberto Scicolone. In 1300 hanno voluto dare la propria forza alla Corsa della Speranza organizzata dal Fondo Edotempia di Viella con un unico motto, quello di sconfiggere il cancro. Cordiale benvenuto dalla redazione di Viella per questa edizione del telegiornale che apriamo subito con un'importante pagina dedicata alla sanità. Infatti con l'emissione del bando che porta medici e infermieri del 118 a far capo a Novara si sta completando la riorganizzazione del servizio di emergenza sanitaria ma i sindacati sono perplessi dell'intera operazione. Sentiamo i particolari. Per avere un maggior controllo della spesa i medici e gli infermieri del 118 di tutto il quadrante dovranno far capo al dipartimento che ha sede a Novara. Un aspetto della riforma sanitaria piemontese che sta preoccupando i sindacati che hanno deciso di incontrare la direzione della SL. 33 sono i dipendenti del 118 di Viella ai quali viene chiesto di aderire al bando per la mobilità volontaria passando sotto le dipendenze della SL di Novara. Chi deciderà di non farlo troverà una diversa collocazione nell'ASL biellese. Ma i sindacati espongono il timore che possa accadere ciò che è accaduto per la centrale operativa. Gli operatori biellesi che non hanno aderito alla mobilità, dunque Novara è stato preso nuovo personale, immediatamente le conseguenze sono stati di servizi e ritardi delle ambulanze. Intanto nei prossimi giorni uscirà il bando e si legge nella bozza che si darà priorità ai dipendenti del 118, ma che se il numero di chi aderirà sarà insufficiente, il bando verrà esteso prima a chi lavora a pronto soccorso e poi a tutti gli altri reparti. E ora veniamo ad un'altra notizia importante, come avete sentito dai titoli di pochi giorni fa la notizia tanto attesa. Il ricorso al Presidente della Repubblica contro l'appiccazione della tassa sui passi Carrai, introdotta dall'ora giunta provinciale, è stato accolto. Il ricorso è frutto della battaglia condotta da CNA Biella, che ha portato addirittura ad una sottoscrizione volontaria delle proprie imprese associate per permettere alla redazione, l'inoltre, allo studio d'Amico, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 48 del regolamento provinciale, che con il suo doppio conteggio portava i canoni COSAP a cifre spropositate. CNA è quindi ora impegnata a diffondere la notizia e le modalità e i dettagli per chiedere e ottenere il rimborso delle somme già pagate. Veniamo ora a una notizia di cronaca. È stato un passante a notare due ragazze che stavano danneggiando una cabina telefonica a Biella in via Pietromicca e ha immediatamente informato le forze dell'ordine. Pochi minuti per raggiungere sul posto, ma i poliziotti non hanno più trovato le due ragazze che nel frattempo si erano dileguate. Ingenti invece i danni arrecati alla struttura e sulla vicenda sta indagando appunto la polizia di Biella. Torniamo a parlare della Burcina. A 20 mila euro il contributo che il Comune di Biella girerà all'Associazione Antincendi Boschivi per occuparsi della manutenzione del Parco Burcina. Ad approvarlo la giunta guidata dal sindaco di Biella Dino Gentile nell'ambito di un protocollo che assegna agli uomini dell'antincendio boschivo il compito di preservare e conservare il Parco biellese e che andranno ad affiancare i due operatori che già sono in opera attraverso l'ente Parco che gestisce la Burcina per la Regione. Ritorniamo a parlare di sanità. Mens sana in corpore sano. Il detto fa ormai parte del nostro vocabolario, ma mai in certe, come in queste circostanze, acquista un particolare valore. Lo spiegheranno nell'ambito di un nuovo ciclo di incontri intitolato allenamento, allenare la memoria per prevenire e curare i medici ed operatori dell'Asla di Biella e del Centro della Memoria. Sentiamo. Mens sana in corpore sano. È stato il motto al centro del nuovo ciclo di incontri intitolato allenamento, allenare la memoria per prevenire e curare. Medici ed operatori dell'ASL di Biella e del Centro della Memoria hanno parlato delle terapie non farmacologiche utili per il trattamento delle demenze e hanno illustrato le attività della palestra della mente di prossima apertura. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che intendono mantenere attiva la memoria anche in età avanzata. Quanto alla palestra della mente, si tratta di un centro a connotazione terapeutica, ma non assistenziale, che sarà avviato nelle prossime settimane presso uno dei locali messi a disposizione dalla cooperativa Anteo. Uno spazio all'interno del quale verranno proposte attività per rallentare la progressione della malattia, per favorire la socializzazione dell'ammallato, migliorando il tono dell'umore e per lavorare anche sulle capacità residue e garantirgli la maggiore autonomia possibile. Gli specialisti ricorreranno alla psicomotricità, alla musicoterapia, all'arte terapia e alla stimolazione cognitiva. In una trasmissione dedicata dalla nostra redazione. Parliamo ora di autotrasporti. Oltre mille autotrasportatori in transito dalla Valle d'Aosta saranno sostoposti dal 30 settembre al 4 ottobre ad uno screening sui disturbi del sonno. L'iniziativa Sleep Stop è promossa dal Traforo del Monte Bianco, da RAV SPA, da GEM Torino, in collaborazione con la medicina del sonno dell'ospedale Molinetti di Torino e il reparto di neurologia dell'ospedale Parini di Aosta, con il patrocinio della regione Valle d'Aosta e della regione Piemonte. Il test è volontario, anonimo e gratuito. Parliamo ora di solidarietà, sostenere le famiglie anche nello sfamare i propri animali. Questa è un'altra iniziativa della Boutique Solidale di Alberto Scicolone. Ce ne parla Andrea Guasco. Fanno parte della famiglia e riuscire a mantenerli permette di non avvilire i loro padroni. Da loro la forza di andare avanti. Ecco perché Boutique Solidale, attraverso il Banco Alimentare, pensa anche a loro, agli animali domestici delle famiglie in gravi difficoltà economiche. Una a sessantina, quelle biellesi che non possono permettersi di comprare del cibo al loro cane o al loro gatto. Grazie alla recente convenzione con un noto marchio turinese, la Morando SPA, è stato raggiunto un prezzo concorrenziale, ma non basta. Con questi prodotti saranno soddisfatte le esigenze degli amici a quattro zampe per un mese. L'aiuto però non è sufficiente. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Noi ci stiamo impegnando su diversi fronti. Uno di quelli che ci vede maggiormente coinvolti è appunto la creazione, è un progetto che è abbastanza unico anche in Piemonte, di un banco alimentare a favore degli animali d'affezione, di famiglie in difficoltà, di famiglie che hanno perso il lavoro. Che cosa facciamo noi? Procuriamo da mangiare, procuriamo quelle che possono essere le cure mediche per gli animali che fanno parte di queste famiglie. Non si tratta di politiche animaliste, come qualcuno potrebbe dire superficialmente, ma politiche a sostegno della famiglia, in quanto l'animale d'affezione fa parte a tutti gli effetti del nucleo familiare, con i pro e con i contro. Noi, sostenendo l'animale d'affezione, da una parte andiamo a praticare quella che è una politica di prevenzione contro l'abbandono degli animali, dall'altra andiamo ad effettuare una vera e propria politica di supporto al nucleo, perché i pochi soldi che vengono destinati per l'acquisto dei generi alimentari dell'animale e vengono risparmiati dalla famiglia e destinati ad altre necessità. In questo stiamo avendo la collaborazione di tanti biellese, quali io comunque faccio l'appello, chi volesse donare, darci una mano, può chiamarmi al 348-3746-898 e stiamo anche ricevendo il prezioso contributo di ditte, come la Morando e S.P.A. di Torino, che ci fornisce il mangiare col 50% di sconto. Allo stato attuale seguiamo 60 famiglie, alle quali settimanalmente diamo del mangiare, cani, gatti, e questo ci dà molta soddisfazione, perché comunque vediamo quanto questi animali facciano parte della vita di questa famiglia, soprattutto se si tratta di persone anziane, e sostenendo loro sosteniamo entrambi. Chi volesse aiutarci in questa nostra iniziativa può telefonarmi al numero 348-3746-898 in modo che io possa fornire quello che è il conto corrente della nostra associazione, l'Associazione Sant'Antonio Abate per la tutela, difesa e benessere degli animali, oppure chi volesse contribuire direttamente portando del mangiare può portarlo in via delle Rose 2, Cooperativa Sociale e la Famiglia, dove ci sarò io ad aspettarvi, così intanto sarà anche un'occasione per conoscerci e presentare quello che è il nostro progetto nei particolari più dettagliati. Vorrei ricordare che aiutando un animale aiutiamo comunque colui che nei momenti difficili ci sta sempre vicino e non ci abbandona mai, e questo lo possono confermare le tante persone che da me vengono e chiedono aiuto col cuore. Grazie. Dunque c'era un errore, il servizio era di Veppe Carelli e non di Andrea Guasco. Ora una notizia che arriva dalla Guardia di Finanza, sei ispettori al termine del corso di prima formazione svolto presso la scuola, ispettori e sovrintendenti dell'Aquila sono stati destinati al gruppo di polizia tributaria di Biella. I neomarescialli Valerio Iovino, Sandra Boscasso, Cristina Di Rocco, Michela Mezzacapo, Marco Ferrantino e Pier Giorgio Ciangola, di età compresa tra i 22 e i 28 anni, da oggi sono operativi nelle fiamme gialle. Si legge in una nota stampa entusiasti di iniziare il proprio percorso lavorativo in una città laboriosa come quella biellese. Con tali nuove assegnazioni, la Guardia di Finanza di Biella potrà ulteriormente incrementare i servizi a tutela della collettività. Cambiamo argomento. A Banca Sella il premio Miglior App Finanza 2013 ad assegnarlo all'Osservatorio Finanziario, il prestigioso riconoscimento per l'applicazione Sella.it grazie alla quale i clienti possono operare sul proprio conto corrente tramite smartphone e tramite i tablet Apple e Android. Vediamo. Mobile Banking di Banca Sella ha vinto il premio Miglior App Finanza 2013 promosso da Osservatorio Finanziario, l'istituto indipendente che confronta i prodotti e i servizi dei diversi istituti bancari. Il premio è stato assegnato a Banca Sella per l'applicazione Sella.it grazie al quale i clienti possono operare nel proprio conto corrente tramite tutti gli smartphone e i tablet Apple e Android. Applicazione, oltre a consentire le operazioni classiche di visualizzazione del conto, consente anche di tenere conto del proprio bilancio familiare registrando entrate e uscite, di impostare un budget mensile e visualizzare le voci che incidono di più. Il riconoscimento è stato assegnato anche per la possibilità di effettuare il pagamento del canone TV e per la sezione dedicata allo stato dei propri finanziamenti. Nello stilare la classifica, l'osservatorio finanziario ha tenuto conto di diverse caratteristiche come la grafica e la facilità di accesso e navigazione, il numero di operazioni informative e dispositivi disponibili e la sicurezza in fase sia di logging sia nel caso di esecuzione di pagamenti come bonifici o ricariche telefoniche. Andiamo a Ponderano dove si è svolta con grande successo la mostra di Patchwork. Una cinquantina di pezzi, dalle coperte ai cuscini, dalle borse ai centrotavola, un piccolo tesoro in stile Patchwork, confezionato con l'utilizzo dei fazzoletti di lana biellese con resti di stoffe che non potrebbero essere recuperate in modo diverso. Una mostra promossa dall'associazione Trame Bielesi, preseduta da Nicoletta Galeno e che è stata accolta dal comune di Ponderano. Il patchwork è una disciplina a cui si possono accostare anche persone che non necessariamente hanno abilità nel cucito. Ci sono varie tecniche di lavorazione e la mostra è stata soprattutto occasione per conoscere persone provenienti anche da altre province. Esiste un'associazione nazionale il cui direttivo è composto da socie provenienti da tutta la penisola. E da questa realtà è stata proposta una sfida interessante per il biellese, un collegamento tra le città tessili di Verona, Como, Chieri e Biella in occasione di Expo 2015. Il tema prescelto è il cibo e le quattro città sarebbero chiamate a realizzare eventi rispettando questo filo conduttore. A Biella è stato chiesto di partecipare attraverso l'associazione Trame Bielesi. Ancora un approfondimento a questa notizia dopo la sigla del telegiornale con uno speciale. Una folla di persone per la Corsa della Speranza organizzata dal Fonde d'Otempia di Biella, una corsa senza regole particolari ma con un unico scopo, quello di sconfiggere il cancro. Vediamo. In 1300 hanno tagliato il nastro di partenza per l'undicesima edizione della Corsa della Speranza. Appuntamento podistico di carattere benefico organizzato dal Fondo d'Otempia per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Una corsa senza regole particolari ma con un unico scopo, sconfiggere il cancro. Un obiettivo che sta particolarmente a cuore ai biellesi grazie ai quali negli anni sono stati raccolti preziosi fondi da investire nella ricerca. La Corsa della Speranza è un'iniziativa che coniuga attività fisica che significa salute e speranza di trovare una cura. Il ricavato della manifestazione sarà infatti interamente devoluto al Fondo d'Otempia per la lotta contro i tumori. Persone d'ogni età, dai bambini in passeggino, agli anziani, qualcuno accompagnato anche dal cane, hanno percorso i 5 km del tracciato in un clima di grande allegria. I primi a tagliare il traguardo sono stati Andrea Nicolo e Roberto Albertini. La partecipazione straordinaria della squadra Under-14 della Biela Rebbi è stato il valore aggiunto. Con questo è tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.